L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Ollus con sede a Salerno ha organizzato la giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada in programma a domenica 19 novembre alle ore 10 e 30 in piazza San Silvestro a Roma. È tradizione dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada simulare un cimitero in una piazza o fare un corteo con le croci, ai fini di sensibilizzazione sociale per scuotere le coscienze e motivare all'impegno civile per la difesa dei diritti umani. Ciò con l'intento di diffondere la cultura al rispetto per la vita e la salute sulle nostre strade affinché diventino siti di incontro e di unione non luoghi di morte disseminate come sono oggi, di fiori e di croci che ricordano una vita che non c'è più. L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada nasce nel 1998 su iniziative di chi ha subito un lutto simile e ogni rappresentante di sede e familiare di una vittima della strada. Obiettivo dell'Associazione è tutelare la vita sulla strada nonché i diritti delle vittime dando conforto ai loro familiari mediante il lavoro appassionato di volontari uniti dallo stesso dolore, ricercare la giustizia e le certezze della pena nonché lottare per la prevenzione degli incidenti sulle strade. Inoltre la medesima associazione offre gratuitamente ai familiari delle vittime sostegno psicologico e riabilitativo con centri di ascolto presenti su tutto il territorio nazionale e assistenza legale, civile e penale. L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada a Salerno nel corso degli anni, dopo la presidenza della compianta luogo Teresa Annunziata, è cresciuta non solo per numero di soci ma anche per numero di interventi e di progetti realizzati soprattutto grazie al contributo di Teresa Astone, responsabile e coordinatrice provinciale di Salerno, già membro del Direttivo Nazionale.